Guarda, una tragedia, una cosa allucinante, guarda. Avete visto morire un uomo? Abbiamo visto morire un uomo, sì, davvero, guarda, uno shock per tutti il palazzo, davvero. L'aria ancora acre del fuoco che ha bruciato completamente un appartamento al terzo piano della palazzina, alle mie spalle in via Tobagi, dove purtroppo ha trovato la morte un uomo di 59 anni che ha cercato di resistere fino all'ultimo l'arrivo dei soccorsi, ma poi purtroppo non ce l'ha fatta, si è accasciato ed è morto così. Noi si è visto il signore che praticamente dal terrazzo gridava, urlava, aiuto, aiuto, non ce la faccio più. E noi tutti si diceva, arriva, non ti preoccupare, stanno arrivando, buttati l'acqua in faccia. E poi diceva, è troppo tardi, non ce la faccio, è troppo tardi. E poi si è visto che mi ha buttato giù le mani e si è accasciato in terra, non si è una più risposta. Siete scappati voi dai palazzi vicini? Sì, sì, noi siamo scappati tutti, ci siamo chiamati l'uno con l'altro e siamo scappati, però è stata una cosa allucinante, cioè una scena macabra. Conoscevate questo signore? Ma poco, perché lui era una persona un po' molto riservata, lavorava, ma non sapevo che lavoro faceva, perché viveva da solo e non si vedeva, faceva casa, lavoro, lavoro, casa, si vedeva poco, viveva da solo con un gattino.